ci parla come dicevo di questi terzini alti all'altezza del mediano la mezzala che si inserisce andando a rompere quella che è la linea degli attaccanti ma 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 non finisce qui perché durante la fase di non possesso che qualche dubbio mi dispiace umanamente ammetterlo ma sin dall'annuncio Mazzarri torna al Napoli ho avuto il sospetto che effettivamente il Napoli avrebbe avuto poco da raccontare durante questa stagione infatti oggi ci ritroviamo a parlare di Calzona un figlio se vogliamo di Sarri sia calcisticamente che dal punto di vista tecnico in ambito coaching scusate il francesismo ma oggi tocca appunto analizzare quali sono le caratteristiche tattiche delle squadre di Calzona perché occhio secondo me la faccenda è interessante per scendere nell'analisi come sempre ragazzi chiamiamo in aiuto la nostra amatissima lavagna tattica che ci sputa in faccia quello che è il dogma di Calzona ragazzi insomma scontato parlare di questo 1433 dove la squadra assume un atteggiamento cangiante a seconda delle situazioni perché è una squadra anche sfacciata se vogliamo in fase di possesso a partire dalla fase di inizio azione per continuare con lo sviluppo per poi arrivare alla fase di finalizzazione una squadra che ha dei dogmi ben precisi dogmi che secondo me appunto Calzona può trasferire al Napoli analizzando infatti la sua Slovacchia possiamo vedere dei concetti secondo me che si possono trasferire in maniera anche abbastanza semplice tra virgolette al Napoli innanzitutto partiamo da questa difesa può sembrare un classico una difesa a quattro ma che ha un approccio molto ben definito a partire come dicevo dalla fase di inizio azione perché sin dalle prime battute possiamo notare dei terzini molto avanzati molto sfrontati per quanto riguarda dare un'opzione in più di passaggio per avere un riferimento immaginiamo i terzini a me ricordano un po' le squadre di De Zerbi quando vedo Calzona allenare appunto da questo punto di vista perché vedo questi terzini molto alti come dicevo per avere un riferimento praticamente sulla linea del mediano quindi occhio al Napoli in fase di impostazione perché da questo punto di vista potrebbe avere questo tipo di assetto una squadra che quindi entra nel vivo del gioco sin dall'inizio e se anche voi avete la voglia magari di entrare nel vivo del mondo del calcio e lavorare come osservatori match analyst e data analyst vi ricordo che abbiamo gli ultimissimissimissimi posti per i corsi del prossimo mese appunto formazione in ambito scouting match analysis e data analysis accesso alle offerte di lavoro nel mondo del calcio accesso a programmi professionali ragazzi tutti i link qui in basso in descrizione se vi va fatevi un giro semplicemente date un'occhiata siamo a vostra disposizione ma continuando Napoli che quindi potremmo vedere impostare sfruttando soprattutto le zone esterne quindi a partire da questo concetto continuiamo con la fase di possesso perché come calzona tende ad organizzare le proprie squadre un po come faceva sarri le catene diventano fondamentali perché immaginando un terzino frequentemente in possesso occhio ai movimenti senza palla di mediano per dare uno spunto in zona centrale appunto per andare a ricevere il passaggio una mezzala molto mobile o comunque le mezzali molto mobili sia per quanto riguarda allargarsi ed offrire un'altra possibilità di passaggio ma anche per quanto riguarda gli inserimenti in verticale attenzione ne parliamo successivamente piccolo spoiler quindi occhio anche alle ali che ovviamente si fanno vedere esternamente ma anche andando a tagliare centralmente il campo in questo tipo di situazione come dicevo occhio alle catene perché possiamo vedere un napoli capace di offrire almeno sempre un doppio passaggio al giocatore in possesso della palla qui rivediamo concetti di sarriana memoria con la slovacchia tutta questa roba ragazzi la possiamo notare e non escludo che questi concetti possano tornare di attualità in casa napoli ovviamente dobbiamo considerare un grande punto debole che ha questa squadra questo napoli di calzona il poco tempo a disposizione per assimilare concetti parzialmente nuovi quindi questo è ciò che la squadra la slovacchia di calzona fa appunto dopo una gestione ormai durata mesi al napoli possiamo vedere gli stessi concetti ma occhio alla fluidità perché non sarebbe una sorpresa vedere un napoli che comunque possa fare affidamento su concetti molto più semplici e magari efficaci nel breve termine quindi occhio a questo tipo di assetto quindi azione tanto gioco sulle fasce per poi andare a concludere conclusione che viene molto affidata alle zone esterne si cercano tanto i cross o le giocate individuali per andare a cercare il centro e poi tirare quindi attenzione anche da quel punto di vista perché possiamo come dicevo vedere cross o passaggi a cercare la prima punta occhio anche alle iniziative personali io immagino un quara scheglia che può trarre beneficio da questo tipo di indicazione in fase di finalizzazione occhio a questa roba qui ma una particolarità interessante potrebbe essere la seguente come spoilerato in precedenza occhio alle mezzali perché tendono ad abbandonare con frequenza la zona centrale del campo quindi inserimenti che vanno a portare diversi uomini in attacco quindi un centrocampo a tre ma che spesso rimane a due o addirittura ad uno con un mediano lasciato più indietro rispetto agli altri per poi poter contare su almeno tre uomini in attacco occhio ad un'altra zona nevralgica cioè quella della tre quarti perché anche qui calzona ha dimostrato di avere la volontà tattica di andare a riempire la zona appunto per raccogliere eventuali seconde palle infatti occhio ai tiri da fuori perché la sua nazionale ha dimostrato di aver assimilato questo tipo di concetto ed occhio a questo esempio perché ci parla come dicevo di questi terzini alti all'altezza del mediano la mezzala che si inserisce andando a rompere quella che è la linea degli attaccanti quindi qui un gol che ci fa vedere appunto la posizione dei terzini una mezzala che si butta in avanti diversi giocatori a raccogliere il cross questa è un'azione tipo appunto di una squadra allenata da calzona un discorso che secondo me si può applicare appunto a questo nuovo napoli ma 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 non finisce qui perché durante la fase di non possesso che qualche dubbio ma 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 se la sua slovacchia ha dimostrato di saper approfittare le zone esterne per poter far male allo stesso tempo ha dimostrato di soffrire quando gli avversari attaccano proprio attraverso le fasce parliamo di un assetto molto compatto in fase di non possesso vediamo spesso infatti le due linee di difesa e centrocampo molto compatte con le ali che aiutano molto quindi occhio anche al contributo fisico che calzona richiede alle proprie squadre quindi da quel punto di vista qualche dubbio ce l'ho perché durante i minuti finali delle partite le fasce diventano vulnerabili proprio per una questione fisica di dispendio di energie quindi un qualcosa da tenere d'occhio attenzione proprio come dicevo alle zone esterne perché la slovacchia quantomeno di calzona ha dimostrato di entrare in difficoltà nel momento in cui gli avversari riescono a portare superiorità numerica in queste zone qui c'è da fare però un discorso fondamentale perché se nella slovacchia ci sono alcuni giocatori nel napoli ce ne sono ovviamente altri le qualità individuali io immagino per esempio parlando della difesa della fascia un di lorenzo che può offrire un certo tipo di materiale tecnico tattico differente rispetto a quello che calzona a disposizione in nazionale quindi ragazzi questa è un'analisi che ci può far intuire quale può essere questo napoli di fine stagione se così vogliamo dire secondo me potrebbe essere una sorpresa in positivo mi esprimo ma come sempre questa è solo e soltanto la mia analisi infatti come sempre vi aspetto qui in basso nei commenti per conoscere le vostre letture l'analisi di oggi finisce qui come sempre spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like e condividetelo se vi va è stato un piacere enorme passare questi minuti con voi un salutone e dal prossimo appuntamento figlio di sarri già l'alice lunga su calzona qualcosa di interessante secondo me la farà vedere dai vediamo perché 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 perché